Giuseppe Conte utilizza parole auliche per nascondere l'obiettivo reale, difendere le poltrone del Movimento 5 Stelle. Non si può invocare il rispetto della Costituzione e poi tramare per uno sceno governo 5 Stelle PD che ha come unico obiettivo impedire agli italiani di esercitare la loro sovranità prevista all'articolo 1 della Costituzione. Andremo dal presidente Mattarella a ribadire che Fratelli d'Italia non c'è per nessun inciucio e che chiediamo elezioni subito perché da elezioni può nascere un governo forte e coeso capace di difendere gli interessi italiani.